bello bellissimo, ho sempre sognato di entrare in un museo di storia naturale ah oggi è aperto il museo bellissimo chissà quanti animali che vedrò come cosa ci faccio sono in un museo sì sono in gita perché sarei pazza? cosa dovrei sapere? cattivi, malvagie addirittura terrificanti di cosa devo aver paura? credo che tu stia un po' esagerando, che poi chi sei tu? il guardiano della biglietteria, ah lo spaventosissimo guardiano della biglietteria ah, ah Paco, ho capito, guarda io credo che tu sia un po' buffo e se devo dire la verità anche un po' tenero ma comunque torniamo a noi, cosa mi stavi raccontando? rumori terrificanti ah, addirittura farebbero crullare un palazzo questo è un po' capisco ma addirittura così tanto puzzolente? ma a me non sembrava ma che camera? allora andiamo dai delle meraviglie dai andiamo cosa dovrei sapere? cosa? ancora mostri quando passi per andare a vederla ti spaventano sempre? ti spaventano poverino eh va bene allora mi accompagni tu come vietato? ma no, Paco ti stai sbagliando e credo che la tua fantasia corre un po' troppo che ne dici andiamo insieme? si, si sarò la tua ombra si, va bene chiarissimo dai andiamo e voi? venite con noi? andiamo a a a a a a a a la a a a a a a a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.